ciao toto benvenuto mi sentirai con la voce un po bassa perché sta cominciando ad andarsene nuovamente ci metto troppo amore troppo enfasi quando parlo delle carte e poi ne pago le conseguenze allora partiamo dagli oracoli volume 2 se ti interessano queste carte trovi giù nella descrizione del video tutte le info andiamo a vedere per il segno zodiacale del toro quali novità ci saranno fra il toro e l'altra persona quindi se hai una persona del tuo cuore o se la conoscerà insomma ce lo diranno le carte io vado a vedere il segno del toro cosa accadrà fra il toro e la persona del suo cuore sia che ci sia già sia che tu la debba conoscere e non vedere toro allora c'è freddezza c'è qualcosa che devi sistemare vediamo al toro rifletti e valuta bene quindi qui c'è un toro e sembrerebbe riflettere e valutare su un qualche cosa pensieri e sogni d'amore dentro di sé già lo sai c'è un forte desiderio allora qui sembrerebbe ci sia un toro alle prese diciamo così con qualcuno qui c'è un forte desiderio c'è un pensiero un sogno d'amore quindi in poche parole il toro sembrerebbe avere già una persona a una persona di suo interesse c'è un qualcuno che interessa già al segno del toro che ha già nel cuore insomma che già ti piace vedi che ancora però come se fossimo in pausa cioè o non è cominciato niente o non è cominciato ancora niente o la persona non c'è ci sarà fatto sta quelle alte parlano di un desiderio di un sogno di un pensiero verso una persona però appunto ancora è un pensiero è un desiderio non sembra ci sia stato qualcosa ancora vediamo toro ha 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 i mp però sta bene quindi il toro nonostante tutto sembra sia tranquillo è una persona tranquilla ok i mp sono felice andiamo a vedere quindi un toro che sta vivendo bene la situazione di qualsiasi situazione si stia parlando e l'altra persona i m e healer sono un guaritore un guaritore o una guaritrice quindi qui c'è e n o fu quindi qui ci sono delle speranze c'è una speranza cioè praticamente qui è come se ci fosse un toro in attesa c'è un toro che stesse guardando valutando che sta come posso dire che sta sulle sue che sta sulle sue che non si sbilancia ma che sta a guardare quindi un toro ea senz'altro qualcuno qui c'è un qualcuno nel proprio cuore o comunque un qualcuno nella propria mente su cui sogniamo e desideriamo però qui la situazione ancora o non è partita o è proprio in una fase di pausa ok qui c'è una pausa di un qualche tipo andiamo a vedere con i parocchi per il toro per il toro tra il toro e l'altra persona cosa succede ok le stelle il fante di bastoni qui il 9 di coppe l'asso di spade cosa succede è il 9 di bastoni quello che c'è di bello è il taglio l'asso di denari allora qui c'è senz'altro una novità una novità qualcosa proprio di nuovo che arriva quindi una comunicazione potremmo venire a sapere un qualche cosa che ci farà piacere un qualcosa di nuovo allora qui fanno vedere un toro aperto quindi senz'altro il toro aperto ad una qualsiasi eventualità sulla difensiva come dire aspetta sto sulle mie voglio vedere qui come vanno le cose e cosa succede con questa persona anche perché ci potrebbe essere un altra situazione in mezzo a questa quindi o la persona la persona in oggetto è impegnata o comunque è una persona e non si vuole impegnare per un motivo x quindi qui c'è un toro che sta sicuramente sulle sue che riflette e valuta che calcola quello che fa e come come deve agire come si deve comportare ok però a questa speranza a questa apertura quindi non è un toro completamente chiuso che chiude le porte qui c'è un toro felice tranquillo cioè a me questa persona piace mi interessa ci spero però ci vado auto ora qui c'è stata proprio questa cosa questa persona ci è piaciuta assai qui c'è proprio il piacere se può da fare il piacere di questa persona ma ripeto qui c'è un qualcosa che rende il toro molto diffidente molto sulle sue come dire me ne voglio stare guardingo che cos'è quel fante di bastoni vedi gli amanti e la torre del taglio qui il toro è venuto a sapere che questa persona che tanto gli piace è impegnata è impegnata o comunque che fra il toro e e questa persona c'è una situazione che li allontana insomma qui c'è un qualcosa in mezzo io ci vedo ovviamente la la terza persona che ci vedo la terza persona però insomma ecco in questo senso vediamo cosa accadrà e e qui c'è qui una più bella di un'altra quanta la giudizio smetto perché 40 arte una più bella dell'altra allora qui c'è sicuramente in arrivo una grande soddisfazione per il toro riguardo questa persona ma non subito ma un qualcosa le verrà chiarito aspetta fammi vedere un'altra cosa poi ti dico ma allora qui c'è da aspettare un po qui un po di tempo passa ma qualcosa in più qualcosa di nuovo verrai a sapere di o da questa persona questa persona potrebbe iniziare o ricominciare a corteggiarti ok qui c'è proprio la persona che viene verso di te toro ok quindi che sistemerà un po la situazione per adesso la vedo fredda e distaccata anche lei anche l'altra persona distaccata anche l'altra persona però qui vedo che deve sistemare un qualcosa ok fosse anche solo decidere cosa vuole fare con l'altra persona ovviamente e poi potrebbe veramente riprendere il discorso con te o iniziarlo proprio il discorso con te non ci dimentichiamo nel taglio del mazzo c'è un asso e venari che parla sempre di qualcosa di nuovo di una novità di un qualcosa che parte che inizia di un qualcosa di bello naturalmente di meraviglioso ok prima però questa persona deve mettere in ordine questa situazione che ha che non ha niente a che vedere con il toro ovviamente ma secondo la mia modestissima idea con un'altra persona sì sì il toro il tanto è lì tranquillo beato che fa la sua vita che pensa agli affari suoi come dire la situazione se deve essere questa non mi interessa quindi è lì che guarda e valuta guarda un attimino quello che accade ok cosa accadrà ma vediamo un po il risultato qui questa persona potrebbe veramente decidere di dopo un periodo un momento anche questa persona di di distacco un po dal toro per quest'altra situazione potrebbe invece farsi avanti muoversi fare un passo ok per il toro c'è più avanti e più sono belli allora qui c'è sicuramente questo periodo periodo in cui le carte ti consigliano di startene per conto tuo quindi la sua strategia deve essere quella non parlare nel senso insomma non vedi e aspetta guarda cosa fa questa persona come si comporta senz'altro sarà la persona a venire verso di te magari proprio cercando di portarti fuori di uscire insomma di chiederti un'uscita qualcosa di questo tipo quindi quando la persona sarà pronta sarà in grado avrà gli strumenti le opportunità di darti qualcosa di farsi avanti con te di prendersi un impegno con te questo è il nocciolo quindi toro la persona che ti piace ci potrebbero essere effettivamente ci potrebbe essere un'altra persona comunque un'altra situazione in mezzo fra voi due per il per il momento per un totte di tempo qui niente accadrà fino a che questa persona però verrà verso di te ok verrà verso di te per sistemare insomma prima deve sistemare un qualcosa che sia con l'altra persona o per altri motivi e poi farà il passo verso di te cioè io qui vedo te e l'altra persona e poi vi troverete vi ritroverete quindi le carte sono positive vediamo che cosa intenderebbe dirti questa persona vediamo con le mie con le mie carte vediamo cosa vorrebbe dire questa persona al toro ho paura di sentirmi così vulnerabile quindi qui una simpatia un desiderio ecco qui c'è da entrambi i lati ed effettivamente qui lo avevamo lo avevamo visto c'è un forte desiderio quindi non è solo il toro che desidera la persona ma è anche l'altra persona che desidera il toro quindi qui l'attrazione almeno l'attrazione fisica c'è vediamo cos'altro vorrebbe dirti mi sento un pazzo ad avere questi forti sentimenti per te quindi anche questa persona che che voglia far credere l'ho detto qui anche questa persona sente qualcosa per te tu gli piaci insomma via vediamo tu sei proprio adorabile tu sei proprio adorabile sei tutto ciò che ho sempre sognato quindi qui il toro piace molto a questa persona diciamo che hai fatto colpo non puoi capire quanto sia stato difficile lasciarti andare quindi anche questa persona che fa la fredda la distaccata effettivamente il desiderio l'avrebbe solo che magari come penso questa terza persona comunque questa situazione che ha in mezzo lo tira indietro riascolto i nostri messaggi più e più volte ho paura di perdere me stesso quindi questa è una persona passatemi termini anche un cincino debole un pochino debole perché insomma ha paura come se non riuscisse a fare una scelta a prendere una posizione di campo però la simpatia e l'attrazione per il toro c'era ed effettivamente quindi se non è all'otto e alle nove il gallo canterà nel senso che questa persona si farà si farà avanti io credo che il toro non sapesse da subito che questa persona era impegnata o che aveva questo tipo di problemi insomma lo sapete voi ma l'ha saputo in un secondo momento e questo l'ha un pochino raffreddato un pochino è però ripeto io qui ci vedo proprio questo avvicinamento quindi toro tieniti pronto un po di tempo dovrà senz'altro sicuramente passare fammi sapere come andranno le cose come ti sei ritrovato in questa lettura va bene un bacione e al prossimo video ciao eccoci qua vi lascio ai miei vino ciao 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 ciao